A combattere nell'ultima resistenza alle Termopili non furono solo i 300 spartani, come vediamo nel film 300 appunto di Zack Snyder, ma circa 1000 soldati. Vi racconto la vera storia di quella battaglia ormai leggendaria e la vita quotidiana di Sparta, analizzando gli errori storici nel film di Zack Snyder. Quindi benvenuti su historica.it, cominciamo! Prima di tutto una precisazione, che poi è quella che faccio sempre. Questo video non vuole essere un attacco al film di Snyder, ma un modo di sfruttarne gli errori storici per imparare la storia di Sparta e della battaglia delle Termopili. A me, lo ammetto, non è piaciuto il film di Snyder, per i soliti motivi per cui non mi piacciono i film di Snyder. Troppo retorico, l'uso della slow motion, la desaturazione che ci priva della bellezza e dei colori del mondo antico. Ma ho apprezzato molto il graphic novel di Frank Miller, 300, da cui è tratto il film, e riconosco che molti degli errori storici presenti nel film provengono già da questo graphic novel, che comunque vi consiglio di leggere. Quindi, dicevamo di sfruttare quegli errori storici per imparare la storia di Sparta? Bene, allora partiamo dall'inizio, dalla selezione dei bambini. Agli spartani gettavano davvero, o comunque facevano morire, i propri bambini ritenuti inadatti alla guerra sul monte Taigeto? Questo è quello che vediamo all'inizio del film, quando si parla della storia di Leonida. Vediamo appunto la selezione dei bambini spartani sul monte Taigeto, tanto famosa e cara ai nazisti. Beh, in realtà questa pratica ci è nota praticamente da un solo autore, Plutarco, nella sua vita di Licurgo. Licurgo fu il legislatore che diede forma allo stato spartano. In realtà c'è un dibattito sugli storici su questo argomento. A dire la verità c'è un dibattito tra gli storici su un po' tutto il funzionamento dello stato spartano. Lo spiega molto bene François Aulière, nelle Mirage Spartiat, che vi metto qui nelle fonti. Ma sulla storia della selezione è intervenuta ad esempio la classicista Debbie Sneed, con un articolo apparso anche su Science, che fa notare che Plutarco scrive di eventi succeduti 700 anni prima di lui e che in più lui stesso parla della vita di un re spartano, Agesilao II, che era esile, minuto e zoppo. Inoltre abbiamo le prove di come nella Grecia classica le persone con disabilità venissero assistite, in qualche modo accettate. Ce lo provano testi medici e strumenti che abbiamo trovato negli scavi. Quindi, è probabile che esistesse un esame di idoneità per i bambini e le bambine spartane, ma difficilmente avrebbe comportato l'uccisione del bambino. Ora andiamo avanti, passiamo all'addestramento spartano che vediamo nel film, ma prima di tutto, se volete altri video come questo, e volete sostenermi, mettete like e iscrivetevi al canale. L'addestramento di uno spartano funzionava così? Beh, questa scena molto probabilmente si riferisce a una fase diversa dell'addestramento, la criptea di cui vi parlo più avanti. Prima di tutto dobbiamo sottolineare una cosa, l'addestramento spartano non era individuale, ma di gruppo, perché a Sparta non contava l'individuo, ma l'unità. Questo addestramento era chiamato Agoghe, e iniziava tra i 7 e gli 8 anni, quando il bambino veniva tolto dalla famiglia e inserito in una mandria di ragazzi della sua stessa età. Veniva a quel punto addestrato da un insegnante e tenuto sotto controllo da altri ragazzi un pochino più grandi. In questo periodo centrale era l'educazione fisica, ma non mancavano anche un'istruzione di tipo intellettuale. Raggiunta l'adolescenza, il ragazzo entrava nel corso superiore di studi, che era più centrato sulla vita militare. Qui veniva rasato e si metteva la prova sulle durezze della vita militare, dormiva sui giunchi, indossava un suolo manto tutto l'anno. Era anche incoraggiato a rubare il cibo all'interno di tutto un sistema di gare e competizioni proprio legate all'addestramento. E se veniva beccato non veniva punito perché aveva rubato, ma perché era stato scoperto. In questo periodo rientrava anche la pederastia, ovvero quell'usanza di istituire relazioni amorose tra uomini adulti e ragazzi adolescenti a scopo pedagogico. Era un'usanza diffusa un po' in tutta la Grecia. Se volete ve ne parli scrivetemelo nei commenti e farò un video. A 18 anni gli spartani completavano l'addestramento, ma dovevano restare a vivere in caserma, anche se si sposavano, fino ai 30 anni, quando acquisivano la piena cittadinanza. E in questo periodo applicavano ciò che avevano imparato, magari facendo i guardiani ad altri branchi, ad altre mandri e di ragazzi più giovani. I migliori di loro venivano selezionati per diventare i 300 membri della Guardia Reale, che sono appunto quegli spartani che vediamo partire per le termopoli con Leonida nel film 300. Invece la scena del lupo che vediamo nel film può essere forse meglio accostata all'usanza della cripteia. Che cos'era? In pratica i giovani spartani più promettenti venivano selezionati per andare a vivere isolati da tutti nel territorio di Sparta. Qui dovevano sopravvivere con le loro sole forze, quindi magari anche combattere contro un lupo, e nel contempo tenere sotto controllo gli iloti, che erano la maggioranza schiavizzata della popolazione. In questa usanza era forse contemplata anche, ma non lo sappiamo se magari fosse un'usanza distinta, la caccia e l'uccisione degli iloti da parte delle criptie, cioè di queste bande di ragazzi molto simili al corios indoeuropeo. A proposito, se volete che vi parli degli indoeuropei scrivete uno dei commenti e farà un video. Più avanti nel film vediamo Gorgo, la moglie di Leonida, recitare un ruolo centrale nella politica della città. Ma le donne spartane erano davvero così libere? L'educazione delle donne spartane era diversa da quella degli spartani. Prima di tutto era centrata sull'oikos, cioè sulla gestione della casa e della famiglia, sia economica che delle sue attività. Poi se da bambina erano incoraggiate a fare sport, perché per gli spartani solo due genitori sani potevano dare vita a grandi guerrieri. Per questo motivo le spartane erano nutrite meglio delle altre donne greche a loro contemporanei. E si sposavano più tardi, verso 19-21 anni, anche se poi potevano vivere col marito solo intorno ai 30, quando questi poteva abbandonare la caserma. E l'allenamento e la cura del corpo continuavano anche dopo il matrimonio e i figli. Alle donne spartane era insegnata la sobrietà dei costumi, ma non per questo erano delle recluse domestiche. Presenziavano ai banchetti, passeggiavano per la polis e nei momenti difficili per la città, proprio come vediamo in Trecento, partecipavano alle decisioni politiche. Per questa loro libertà, il filosofo Aristotele le definiva scostumate. Passiamo alla battaglia delle Termopili. E iniziamo proprio dall'ambasceria, che vediamo Leonida così poco diplomaticamente accettare in un pozzo. Questa è Sparta! Beh, questa ambasceria non è mai avvenuta. Gli unici messaggeri che furono inviati dai persiani in Grecia arrivarono dieci anni prima, all'epoca della prima guerra persiana, quando Dario chiese una sottomissione formale a queste comunità al di fuori, ai margini, proprio ai confini del suo impero, anche per disinnescare le possibili rivolte delle città greche che lui aveva nel suo impero, sulla costa dell'Asia Minore. In generale tutto l'universo persiano, in particolare l'esercito, è mal rappresentato. E in questo Snyder si discosta anche da Miller. Per esempio, Miller deumanizza gli immortali mettendogli delle maschere, anche se l'attrezzatura che vediamo, l'equipaggiamento che vediamo addosso agli immortali non è storicamente accurato. Ma Snyder si spinge molto oltre, trasformandoli in orchi e rivelando la sua ossessione per il Signore degli Anelli. Poi non c'erano rinoceronti corrazzati e i primi elefanti utilizzati in battaglia risalgono alla battaglia di Caugamela del secolo successivo. Parliamo ora degli Spartani e il loro equipaggiamento non è storicamente accurato. Nessuno andrebbe in battaglia a petto nudo, sarebbe troppo pericoloso. Gli Spartani, che si muovevano in unità chiamate falange oplitiche, perché composte da opliti, indossavano elmo, armatura, lancia, spada e scudo, uno scudo rotondo chiamato oplon, da cui appunto il nome opliti. E quindi quanti erano a combattere alle Termopili? Beh, allora, all'inizio della battaglia, come vediamo nel film, ci sono i 300 Spartani, cioè Leonida con la sua guardia reale, e più gli alleati greci che sono venuti a combattere con loro. All'incirca 7.000 soldati. Quando però c'è il tradimento di Efialt e le forze vengono circondate, come si vede nel film, molti se ne vanno, molti greci se ne vanno. Ma non restano solo gli Spartani. In realtà a combattere nell'ultima difesa delle Termopili saranno i 300 Spartani di Leonida, e più 700 Tespiesi e 400 Tebani, le cui città si trovavano in Beozia, subito sotto le Termopili. Infatti Tespie verrà saccheggiata subito dopo la vittoria di Sers. Quando questo migliaio circa di soldati si rese conto di essere accerchiato e di non avere più alcuna speranza, abbandonò il muro difensivo che gli aveva ricostruito e si lanciò in battaglia, cercando di uccidere più nemici possibile, e fu sterminato. Ma questo suo sacrificio destò la Grecia all'azione. Atene giocò allora, come aveva già fatto nella Prima Guerra Persiana, un ruolo fondamentale, grazie al suo leader Temistocle e alla sua potenza sul mare. Questo episodio, questo sviluppo, è narrato in 300 l'alba di un impero. Se volete che ve ne parli, scrivetemi nei commenti e farò un video. Come lettura molto accessibile su Sparta, vi segnalo Sparta di Hans Baltrus, ma c'è naturalmente Cartledge oppure Cantarella, quindi insomma vi metto tutte le fonti e tutti i libri nell'infobox e nei commenti. Grazie di aver guardato il video fin qui, se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto grazie comunque di aver guardato.